dalla sede di 9.000 giri con luca per parlare di un argomento fondamentale perché non per andar forte bisogna anche frenare bene vero parliamo della pista chiaramente per strada sempre nelle regole però una vettura che frena bene anche su strada non utilizzo di tutti i giorni è una vettura più sicura per voi e per gli altri che circolano sulla strada corretto vai luca allora la puntata precedente aveva fatto un così un punto della situazione sul sull'assetto quindi con i vari aspetti che compongono l'assetto direi di fare se tu sei d'accordo la stessa cosa però mirata sull'impianto frenante quindi mi riallaccio al discorso che dicevi all'inizio una macchina diciamo pur potente che ha una frenata insufficiente non ha nessun senso di esistere nel senso non non freni assolutamente però a livello ottimale per uso sportivo chiaramente consigliamo sempre l'utilizzo sportivo in pista ovviamente senza fare cose strane in strada il fatto di avere una macchina con la giusta potenza ma comunque ben assettata e soprattutto ben frenata a questo punto si ha un'omogeneità strutturale completa e rispetto una macchina che magari ha più cavalli ma è meno frenata o non è bilanciata in maniera ottimale col freno o con l'assetto sicuramente si ottengono delle soddisfazioni migliori con la macchina diciamo completa da punto di vista freni assetto e motore questo a livello proprio generale entrando nello specifico i freni abbastanza semplice come discorso meno complicato rispetto al discorso assetto sono composti sostanzialmente da due componenti la pinza di tre componenti la pinza che questa il disco che questo è una pastiglia che questa quindi in sostanza la pompa senza entrare nel diciamo nello specifico tecnico c'è una pompa dei freni ovviamente che è comandata dal pedale la quale attraverso delle tubazioni manda l'olio in pressione sui pistoncini che ci sono a livello sulla sulla pinza questa è una pinza brembo a quattro pompanti i pistoncini comprimono le pastiglie le quali copiano in gergo la la pastiglia sul disco e in questo caso si tiene la frenata che cos'è che differenzia un diciamo un impianto stock rispetto un impianto più sportivo in primis la qualità dei materiali indipendentemente dal discorso parliamo sempre di utilizzi sportivi stradali non agonistici agonistici si parte proprio addirittura dalla pompa dei freni quindi sono pompe completamente diverse che in questo caso non prendiamo in considerazione la forza frenante il potere la pressione che viene esercitata sui pistoncini è completamente diversa quindi noi di solito le pompe lasciamo quelle stock possiamo appunto il primo step di modifica è sulla componente dei dischi c'è un disco sempre in ghisa ma temperato in maniera tale che possa sopportare un maggior calore quindi questo cosa significa che se io metto una pastiglia ovviamente la mescola della pastiglia fa la differenza purtroppo non esistono più le pastiglie con l'amianto esistono altri componenti sono pastiglie organiche però sono più dure rispetto alla pastiglia stock quindi essendo più dura creano col attrito un calore maggiore se io vado a stressare questo questo utilizzo soprattutto su una macchina che magari utilizzi molti freni esempio classico esempio quando scendi da una dalla montagna dove hai tanti tornanti utilizzi molto magari macchina carica cosa succede tu stressi cioè aumenti in maniera esponenziale il calore fra disco e pastiglia quello che cede normalmente il disco che si svergola si proprio si 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 deforma oppure un altro caso tipico è disco freddo in autostrada pozzanghera fai una frenata prendi una pozzanghera per cui in maniera repentina abbatti il calore e cricchi il disco anche o lo svergole c'è quindi c'è tutta una serie di componenti dopo di che c'è cacchio la macchina al volante che vibra non è il cerchio che si è stortato la gomma che è andata fuori bilanciatura è il disco che a questo punto viene copiato e non essendo più planare ovviamente crea questo tipo di di problema quindi la prima cosa da fare è mettere questo un disco di serie quindi liscio ma non è la questione della lavorazione sul sul sulla faccia del disco è meno importante è proprio la qualità la tempo la temperatura della ghisa con la quale c'è la differenza tra un disco sportivo un disco stock poi da un punto di vista io dico estetico perché da livello funzionale partiamo sempre dal concetto che non stiamo parlando di vetture da gara se voi prendete un disco di formula 1 la superficie sono chiaramente dischi in carboceramico in carbonio completamente diverse ma la superficie del disco è liscia quindi il fatto che il disco abbia i fori piuttosto che quella specie di sfries che si chiamano baffi si hanno un'utilità perché chiaramente i fori cercano di raffreddare un pochino di più la temperatura del disco che comunque viene raffreddata questo disco autoventilante viene raffreddato in questo senso cioè l'aria del che viene dall'esterno entra attraverso questi fori e tende ad abbassare l'elettro quindi non sono questi fori qua che vanno ad abbassare diciamo che questi possono aiutare ma non sono significativi i famosi baffi adesso questo un disco che è solo solo forato tipo brembo ci sono quei dischi che hanno anche i baffettini fatti in questa maniera servono per tenere ravvivata la superficie della pastiglia anche in questo caso è più una roba estetica che a livello funzionale cioè serve anche quello d'accordissimo però quello che serve è la temperatura della ghisa stesso dicasi per il discorso della pastiglia la pastiglia diciamo sportiva e anche in questo caso ci sono diverse e se qua ho messo tre noi utilizziamo diciamo in maniera principale queste pastiglie che sono anche i dischi della ABC che è una ditta inglese che al di là della tipologia di disco o della finitura del disco offre 3 4 5 tipologie di pastiglia che differenzia a seconda dei colori quindi che uno voglia avere una pastiglia per andare solamente in pista quindi una pastiglia ancora più dura con lo svantaggio infatti non le consegniamo chiaramente a livello stradale deve essere messa in temperatura è similare a una pastiglia agonistica perché sennò se non la mette in temperatura la macchina dei primi quindi la prima frenata tira lungo quindi non puoi proporre a un cliente una pastiglia agonistica devi proporre una pastiglia che è questa rossa? no la pastiglia agonistica è una pastiglia no 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 allora è una pastiglia nera particolare che noi non utilizziamo perché normalmente il 99% dei nostri clienti sono clienti stradali che usano la macchina in strada normalmente noi cosa consigliamo? o queste due colorazioni che sono più o meno dure però che non necessitano di essere messe in temperatura quindi la gialla e la rossa oppure una pastiglia che si chiama green stuff che è questa che è leggermente più simile alla pastiglia di serie questo come concetto quindi a seconda noi dobbiamo capire quello che vuole il cliente capire la tipologia di macchina e proporre la giusta pastiglia rispetto al disco questo da un punto di vista pratico ok quindi abbiamo chiuso l'argomento dischi e pastiglie passiamo al discorso della pinza anche qua la pinza è un componente fondamentale normalmente le pinze di serie sono già sufficientemente dimensionate se uno vuole avere un upgrade cosa fa? deve chiaramente utilizzare una pinza di diametro maggiore con dei supporti pinza diversi quindi questo cosa significa? che io posso lavorare su un diametro del disco maggiore quindi aumento il diametro del disco l'aumento del diametro del disco consente di avere una pastiglia cioè una superficie della pastiglia che copia il disco maggiore in quel caso ottengo un miglioramento in termini di frenata è chiaro che c'è sempre un limite alle cose bisogna sempre capire il cliente che cosa vuole quali sono le sue necessità e consigliare il giusto prodotto perché ovviamente un conto è cambiare una coppia di dischi e pastiglie anteriori perché normalmente c'è un primo step cambia le davanti il peso grave in un momento è una macchina vettura a motore anteriore il 75% del peso è sull'asse anteriore dov'è che lavora di più l'impianto frenato? sul disco e pastiglie anteriori il posteriore deve far seguire la frenata ma non è, infatti normalmente i dischi posteriori sono di diametro diverso e più piccolo rispetto agli anteriori quindi primo step cambia dischi e pastiglie anteriori poi secondo step può essere un discorso di tubazioni queste sono delle tubazioni, i famosi tubicini dei freni che in una macchina di serie sono fatti in gomma l'olio che passa all'interno è un olio altamente corrosivo quindi normalmente se voi guardate su qualunque libretto di uso e manutenzione ci sarà scritto che dopo 5, normalmente dopo 5 anni andrebbero sostituiti con degli altri dischi in gomma volete evitare il problema e risolvono noi una volta per tutte al posto che mette l'ingomma si mettono in maglia metallica all'interno qua c'è sempre la gomma però vengono rivestiti in maglia metallica questo consente, impedisce in maniera successiva la dilattazione della gomma quindi questo, quando vi trovate con una macchina pur con dischi e pastiglie nuovi che però all'effetto, come se voi schiaccesse su un pallone quindi uno dice ma il pedale è gommoso questo è causa, normalmente è causato dalla dilattazione dall'effetto polmone, dalla dilattazione della gomma della tubazione freno, questo di solito quindi anche questo, dopo un certo numero di anni questo potrebbe essere un altro intervento un terzo intervento è l'olio dei freni perché anche questo è un, come dire, incide sul discorso generale all'ennescoio devo mettere un olio dei freni che abbia una capacità termica di ebollizione superiore normalmente le macchine montano un DOT 3, un DOT 4 in una vettura, diciamo, più sportiva si mette un DOT 4 Plus o addirittura un DOT 5 senza andare oltre perché poi sono molto igroscopici e più tu aumenti il numero più frequentemente devi sostituire l'olio dei freni quindi normalmente si mette un DOT 4 Plus che ha, diciamo, gli intervalli di manutenzione ogni due anni uguali a quello di serie in sostanza però ha una capacità di punto di ebollizione molto superiore quindi, dicevo, il discorso dell'impianto frenante maggiorato vi posso far vedere qualche cosa sul sito questi sono degli impianti maggiorati che abbiamo montato su alcune vetture dove si vede chiaramente appunto la pinza esistono pinze a 2, 4, 6, 12 pompanti cioè 6 pompanti da una parte e 6 pompanti dall'altra quindi non è il numero dei pompanti che fa la differenza perché se partiamo dal concetto che la forza sui pompanti è sempre determinata da una pompa dei freni che ha quella capacità non è quello viene distribuita in maniera più uniforme sulla pastiglia cioè la pressione sulla pastiglia a posto che essere esercitata su un unico punto nel senso se ha due pompanti ovviamente o monopompanti viene esercitata solo su un punto due pompanti come in questo caso viene esercitata in due punti 6 pompanti se ho la pastiglia che è molto lunga avrà la pastiglia esatto esatto viene esercitata su tutta la superficie della pastiglia però da un punto di vista pratico ottieni grosso modo lo stesso effetto anche se hai un 4 pompanti i pompanti saranno più grossi in questo caso saranno un po' più piccoli però questo impianto con i 6 o 12 pompanti va meno facilmente in stress questo sicuramente perché ovviamente io montando un impianto maggiorato come questo vado ad aumentare dell'X% dipende da macchina a macchina perché diciamo il mio limite è sempre il diametro interno del cerchio se ho un cerchio da 20 pollici rispetto all'impianto di serie avrò una distanza tra il limite del disco e dove mi va a toccare all'interno del cerchio di X centimetri se ho un cerchio da 17 pollici o da 6 dipene ho una superficie molto più bassa quindi quando io vado a consigliare un impianto frenante maggiorato devo capire cioè non posso andargli a fare dipende sempre resa spesa perché se io devo aumentare di un centimetro la superficie frenante detta molto onestamente il gioco non va alla candela se lo comincio a aumentare di 2-3 che da non so un 200 mm lo porto a un 240-250 mm caspetta mi cambia del 25% il potere frenante questo è evidente perfetto Luca chiaro come sempre grazie mille per le indicazioni che ci hai dato ci vediamo al prossimo servizio da 9000 giri per tutte le indicazioni di cui hanno bisogno gli amici possono visitare il sito www.9milagiri.it te lo ricordi? eh sì bravo alla prossima ciao ciao ciao